Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al mio nuovo video pizza challenge! Eccomi qui in compagnia di mia sorella Sara e mia cugina Alessia e adesso faremo il nostro pizza challenge che consisterà nel pescare un bigliettino e l'ingrediente che uscirà lo dobbiamo mettere nella nostra pizza Si inizia! Vediamo sugo Oddio, oddio Prosciutto cotto E' il barato Uuuuuh Ah cos'è? Ehi E' sta ferma! Ehi Guarda po' che schifo mi esce E' il pezzalo Ehi Uuuuuh Ah Ah E' la mangiarti Ok E' a farza E' la mangiare della nostra pizza Che sei in amigine andiamo a lei aspetta io panna prego addio aprila sottiletta aprile invece la metto io vieni a lei schifo adesso è più buono lo sapevo che mi sciavano schifo 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 si è riuscita meno ma perdo schifo 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 no schifo schifo davvero la supe se dieci schifo Che schifo Ok, prossimo bigliettino L'ho aggiunto a gotto E l'ho messo già Patacine Te l'hanno messo buonissima Che schifo Beschiamo di nuovo Uscite patatine SUGO Non c'è Non c'è Schifo Non c'è Non c'è Dai Prezzo e biglietto Non c'è Non c'è E' buona la pizza JUTEL E la abbiamo Patatine 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 Tra Patatine 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 E' buona la messa Patatine Poco A Patatine Patatine No, no, no. Mozzarella! Mozzarella! Uai, te ne sei staccato! Spezza! Davvero, te ne sei manco che cavolo di mozzarella ho comprato! Mortadella! Prego! Mais! Che si fa? No! No! Oddio basta! Mais! Mortadella! Non è tutto! Non è tutto! Non è tutto! Ma è tutto! Ma è tutto! Sì le pizze sono pronte Sessione COMPUTER! Scusate questa cosa Rida Rida Via Io tolgo il mais raga La metti Tata No Ok E' buona E' buona E' buona C'è il problema E' buona, qui ne è mai buona E' buona, qui ne è mai buona per quando mi finirò questa pizza in notte mi assaggiare è tutta questa eccoci qui alla fine del nostro pizza challenge e mi raccomando iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video mettete un pollicione in su se non vi è piaciuto mettete un pollicino in su ciao al prossimo video eccoci qui alla fine del nostro pizza challenge e adesso iscrivetevi al canale e se non vi è piaciuto a lì a lì a lì a lì a lì